Ciao, benvenuti su Cartesia e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi propongo una ricetta facilissima che già avete visto sul mio canale. La crema di caffè senza panna e come avete visto è una crema di caffè davvero deliziosa e sembra davvero panna. Proverò oggi a realizzare la nostra crema di caffè con il trita tutto. Vediamo cosa ne esce. Iniziamo subito. Trovate tutti gli ingredienti qui sotto nell'info box. Vi servirà mezzo bicchiere di acqua e acqua fredda da frigo. Questa volta ho lasciato il mio bicchiere 20 minuti in freezer. Quindi il giorno primo ho lasciato l'acqua in frigo, quindi la normale bottiglia. Poi ho versato nel bicchiere di plastica mezzo bicchiere e l'ho tenuto 20 minuti in freezer. Versiamo l'acqua. Mezzo bicchiere di caffè solubile. Mezzo bicchiere di zucchero bianco. Siamo pronti! Dopo una ventina di secondi aggiungo un altro mezzo bicchiere di zucchero bianco. Continuo a lavorare il tutto con il nostro tritrapostone. Utilizza adesso il turbo, quindi la massima velocità. Rispetto alle fruste elettriche dovete lavorare un po' di più col tritatutto. Guardate che bella consistenza anche con il tritatutto. Facile, veloce, buonissima. Ragazzi, come vi ho già detto nell'altro video della crema di caffè, lo zucchero lo dovete personalizzare voi. Perché si sa, il caffè non piace a tutti nello stesso modo. C'è chi lo prende amaro, chi lo prende molto zuccherato e chi meno zuccherato. Quindi io in totale ho messo un bicchiere di zucchero bianco. Voi se volete potete utilizzare anche la stevia oppure lo da zucchero di canna. Dosate voi lo zucchero. Come base minimo mettete mezzo bicchiere di zucchero e poi lo potete personalizzare. Guardate che bella cremosità. Beh, anche con il tritatutto la crema di caffè è davvero una delizia. A solito, se volete in superficie potete aggiungere il nesquicco, il cacao amaro oppure il cacao zuccherato o addirittura scaglie di cioccolato fondente. Provate anche voi la crema di caffè con il tritatutto. Senza panna, davvero facilissima e cremosissima da realizzare. Guardate. Quindi potete con le stesse dosi realizzare la vostra crema di caffè con le fruste elettriche oppure col tritatutto. Vi sembra che il risultato è davvero soddisfacente anche con il tritatutto. La prova è superata. A me piace davvero tantissimo così perché è cremosissima. Poi dovete, mi raccomando, amalgamare bene col tritatutto, non dovete avere fretta perché sennò lo zucchero non si scioglie. Io spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando, iscrivetevi perché ci sono davvero tante video ricette super golosi in arrivo. E tante altre ricette troverete sul mio canale. Quindi attivate la campanella per restare aggiornati su tutti i miei video. E se volete potete seguirmi anche su Facebook oppure su Instagram come Ricette Golose di Cartesia. È una vera e propria crema. Come vedete sul fondo non si deposita il caffè. Quindi io resta, diciamo, tutta cremosa fino in fondo. Io vi consiglio di realizzare questa ricetta sul momento oppure realizzarla un'oretta prima che arrivano i vostri ospiti e poi conservarla in frigo con la pellicola e servirla al momento. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao, baci da Cartesia. Ovviamente non mi faccio mancare la prova a saggio. Buonissima! Ciao, alla prossima! E se provate questa ricetta lasciatemi un commento. Ciao!